Facciamo un bilancio di questo Cibus qui a Parma? Un bilancio positivo sicuramente, il nostro stand è stato considerato fra i più belli in assoluto, è stato molto visitato, è stato molto apprezzato e sono stati apprezzati i prodotti delle nostre aziende che sono soddisfatte e che vogliono rilanciare perché ci hanno chiesto in tanti di venire su a Milano a TuttoFood a maggio, quindi un settore, quello che è un alimentare calabrese che è in crescita, è in ripresa con tanti giovani, con tante donne che si stanno impegnando e quindi noi vogliamo supportarli e continuare a fare azioni di sostegno attraverso queste iniziative che sono iniziative di promozione e andare anche oltre con il reperimento magari dei mercati giusti per i prodotti di qualità e di una agroalimentare di nicchia come il nostro.